La partita è stata un po' difficile ma grazie al Signore abbiamo vinto la partita a 3 credo La partita è stata un po' difficile ma giocando insieme la squadra siamo riusciti a superare le nostre difficoltà La partita è stata bella e vogliamo giocare sempre andare più avanti e vinciamo Grazie per l'intervista ci vediamo alle prossime partite Forza Chignonese! E ora passiamo ad un giocatore del Comedia con noi Mattia mentre vediamo il suo gol e le altre azioni Anche lui chiediamo un commento sulla partita La partita è stata difficile però ce l'abbiamo messa tutta Non siamo riusciti a concluderla bene, ho fatto gol, contento e stiamo migliorando la squadra. Ti ringrazio Mattia per l'intervista e ci vediamo sui campi di Calcio 5. Forza Gometa!